Di occasioni veri, importanti, non abbiamo avuto molte, però siamo stati in partita, nel senso anche quando abbiamo subito il gol, quando nei primi minuti loro hanno fatto molto bene, ci hanno messo in grossa difficoltà, hanno avuto altre due occasioni, però sapevamo che squadra andavamo ad affrontare. Siamo stati bravi a non iniziare subito poi a prendere il gol, è il primo ad aprirci molto perché altrimenti facevamo il loro gioco, siamo stati là compatti, siamo stati premiati sull'1-1 fine primo tempo e forse da là mentalmente la gara è cambiata, perché quando prendi gol a un minuto della fine o a tempo scaduto al primo tempo, insomma ti dà più forza alla squadra che l'ha fatto e meno a quella che l'ha subito. No, a mio avviso non è la miglior prestazione del campionato, e noi abbiamo fatto domenica a Bassano, forse una delle più belle se non la più bella, è per assurdo a un secondo dalla fine perdi la gara, però il bello e il brutto del calcio è questo. Oggi noi abbiamo fatto una gara di cuore, sapevamo, perché quando affronti certi avversari, perché tutto rispetto agli avversari, una squadra fortissima in tutti i reparti, quindi portare a casa un risultato già positivo ero contento. Credo che loro qualche errore l'hanno fatto in fase realizzativa, noi abbiamo concretizzato al meglio quello che abbiamo avuto, però siamo stati sempre in gara più che mai, è questo che dobbiamo fare, rimanere sempre vivi, insomma un po' di fortuna in certi momenti però, dire fortuna dopo che venivamo delle partite non vinte meritatamente, quindi oggi i ragazzi si sono meritati questa vittoria contro una grandissima squadra, forse la più forte, l'ho sempre detto insieme ad altre due, e quindi sono punti pesanti, ma credetemi, già abbiamo giuito, festeggiato, ma non più di tanto, non più di tanto perché il nostro campionato è un altro, noi adesso avremo due trasferti difficilissimi per quello che ci riguarda noi, però l'allenatore preparare trasferti come Sant'Arcangelo, il B1F è dura, perché queste partite si preparano da sole, allora vedremo come verremo fuori da queste due gare, allora capirò dopo 9-10 giornate questo teramo di che pasta è fatta. Sul secondo tempo è stata una partita dove loro hanno fatto gol sempre sul calcio piazzato, su una rimpalla, noi abbiamo avuto tre palle e gol davanti alla porta, due con cappello e una con cisco, non è facile venire qui e creare più di tanto, c'è un palo parata del portiere, è chiaro che la partita nel secondo tempo è diventata maschia, si è giocato poco, noi quello che abbiamo giocato l'abbiamo cercato di fare, c'è mancato quella pizzico di cattiveria, che forse dopo quattro vittorie è mancata, però io vedo molta agitazione da parte del teramo, a volte molta agitazione da parte nostra, noi venivamo da quattro vittorie, inciampare fa parte del calcio, abbiamo detto che la classifica la dobbiamo guardare a maggio, sì, era un'occasione, io penso che la squadra abbia fatto una partita come doveva fare, è chiaro che è mancato quel pizzico di cattiveria in più, che casomai in altre partite avevamo, perché su due palle inattive non possiamo prendere due gol, noi prendiamo solo gol su palle inattiva, evidentemente bisogna avere un po' più di attenzione, dopo quattro vittorie questo è un po' scemato, questo sì sono d'accordo, secondo tempo loro hanno fatto questo 2-1, si è smesso un po' di giocare, però le nostre tre occasioni per andare in parità le abbiamo avute, quindi la squadra non è crollata, anzi ha avuto, però è vero che ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più di altre partite.